Si parla tanto in questi giorni di come contingentare gli ingressi al cimitero di Modica, ma ancora nulla si è sentito riguardo le intenzioni dell'amministrazione in merito al decoro del luogo di culto modicano. E quanto afferma il consigliere comunale, Mommo Carpentieri, che continua, da anni ormai si chiede di ridare giusta dignità alla memoria dei defunti, iniziando dai colombai interdetti al pubblico all'interno del cimitero vecchio, dalla sistemazione delle aiuole e la rimozione delle sterpaie. Per gran parte dell'anno il cimitero è rimasto in uno stato di degrado nel quale ormai sembra ci siamo tutti abituati. Quello che mi preme sottolineare e per il quale voglio rivolgere un appello al sindaco di Modica, continua Mommo Carpentieri, è che la memoria dei defunti deve sempre essere onorata e in questi giorni più che mai, visto che si prevede un'alta affluenza di persone. Resta anche gravissima la situazione di disagio che stanno vivendo migliaia di famiglie modicane che non possono neanche portare un fiore ai loro cari defunti perché si ritrovano con l'accesso interdetto ai loculi del colombaio nella parte vecchia del cimitero. Una situazione che si protrae ormai da diversi anni è destinata a perdurare ancora per chissà quanto tempo, negando di fatto la possibilità e il diritto a moltissimi cittadini di ricordare i propri cari nella parte vecchia del cimitero dove la zona è stata dichiarata a rischio. Sarebbe il caso, proprio in questi giorni di commemorazione dei defunti, fare in modo che tali locali siano accessibili a migliaia di famiglie che hanno il diritto, come tutti, di poter portare un fiore ai propri cari. Per questo rinnovo il mio appello, conclude Carpentieri al sindaco di Modica, Ignazia Abate, affinché provveda in tempo a rendere il cimitero di Modica un luogo pulito e accessibile a tutti. Grazie. 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 Grazie.